ciao a tutti bentornati al meteo.com adesso ci sarà ci saranno delle previsioni del tempo qua a milano e qua in tutta tutta italia ci sarà davvero caldo e poi al pomeriggio ci saranno tanti nuvoloni il tempo sarà nuvoloso in sardegna il tempo sarà con il tempo alle di notte in sicilia invece nuvoloso a milano ci sarà il sole super soleggiato e qua in puglia ci sarà un po nuvoloso e qua a cosenza ci sarà un po nuvoloso e un po soleggiato la mattina quindi da meteo.com oggi è tutto vabbè ciao grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti